Gigi ciao Buongiorno, buongiorno stiamo andando al Sapo Square c'è Fabrizio Lama inizia a Sapo Square perché oggi abbiamo una giornata molto particolare perché abbiamo sia il concerto a Sapo Square che a Savoy e quindi abbiamo da fare un po' insomma, iniziamo questo vlog così, così con il taff taff oggi siamo sul pulmino il taff taff con 20 pound con un euro riusciamo a fare il percorso e niente, vi auguriamo buona visione per questo vlog, faremo un'altra daily routine per farvi vedere questa giornata una giornata impegnativissima perché dobbiamo anche fare le riprese per il video della nuova canzone che uscirà a novembre e quindi dobbiamo andare dopo le prove al Sapo Square a vedere anche le location del deserto, insomma abbiamo fatto un sacco di cose documenteremo ma quando ci pille un caffè ci si io le pille un po' ciao 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 Musica Allora noi oggi, come avevamo già detto, facciamo un po' di riprese per la nuova canzone, per il video della mia nuova canzone che uscirà a novembre e per questo già ringrazio Alberto perché mi ha già iniziato un arrangiamento bellissimo di questo pezzo di cui non vi anticipo al momento neanche il titolo era praticamente finita, non mi posso anticipare e noi siamo venuti qui perché vogliamo fare una parte di questo video in questo posto perché c'è una location particolare, anche se mi sparano qualcuno sta sparando ma speriamo che non stia cominciando la guerra, proprio oggi no Va bene? Ok, quindi siamo prontissimi per farvi questo Bene Grazie E' capito al vento Grazie Eccoli là, eccoli là E niente Diciamo che io ce l'ho fatta Fanno passare Alza voi Tanto quando lo pubblico questo è già finito tutto Perciò Non se ne sono accorti Così può ascoltarmi Per l'ora che sono qua a cantare Va bene? Abbiamo oggi quindi L'abbiamo fatte quasi tutte Di cotte, di crude Anche il video nel deserto Oggi è stato fantastico E ora invece aspettiamo Fatto le prove aspettiamo Live delle sette Va bene? Perfetto Faccio vedere un pezzettino Ciao 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 Alla prossima 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 Alla prossima